Si attende solo la matematica, poi finalmente quel tricolore con all'interno il numero 3 sarà sdoganato e messo in vendita. In città c'è attesa, per vedere, dopo più di 30 anni, la maglietta azzurra con su cucito lo scudetto. Negli store ufficiali, da inizio stagione, va forte la vendita dei prodotti brandizzati. Kvara e Osimen, manco a dirlo, le maglie più gettonate e vendute, così come quella di Kim, grazie anche alla presenza in città di tantissimi turisti coreani. Resta intramontabile la maglia di Maradona, ponte tra il passato e il futuro, icona di un calcio che non c'è più, ma anche icona partenopea per eccellenza. Le maglie che si vendono di più sono quelle di Kvara e Osimen. La maglia di Maradona ama sempre, perché non è una cosa che riguarda solo i napoletani, ma tutti i turisti. Il mercato per fortuna sta andando molto bene. Oggi nei negozi è quasi praticamente impossibile trovare una maglia azzurra, tutte terminate, sicuramente i nomi più gettonati, sicuramente Kvara e Osimen. Si vende molto molto Kvara a Schelia, moltissimo. Dopo c'è Osimen. Io il giorno della partita vendo tanti mingei perché abbiamo una forte vendita di coreani. Ma se da un lato i commercianti sorridono con le maglie azzurre praticamente esaurite da Natale e la vendita top delle limited edition, dall'altro c'è il rischio che quando lo scudetto sarà ufficializzato anche dalla matematica, le vendite possano non decollare mai. Il motivo? La vendita già da settimane sulle bancarelle e in città di gadget, magliette, bandiere e sciarpe, parallele, perfettamente conformi alle originali e ovviamente a prezzi nettamente inferiori rispetto a quelle di Emporio Armani. Un mercato florido e in espansione, se si pensa che a Via Chiaia, di fronte allo store ufficiale del calcio Napoli, c'è chi vende da mesi maglie replica o tarocche. I commercianti regolarmente autorizzati dalla società sportiva calcio Napoli chiedono a De Laurentiis, alla Guardia di Finanza e in generale alle forze dell'ordine maggiori controlli, soprattutto prima e dopo le gare del Napoli allo stadio Maradona. È una cosa che ci dà molto fastidio. Le bancarelle però in città già ci sono, già con le bandiere con il numero 3, insomma c'è una vendita parallela che è già iniziata da qualche settimana. Sicuramente, sicuramente. Diciamo che si dovrebbe trovare un giusto equilibrio perché per non penalizzare tutti gli store e persone che fanno investimenti importanti. I clienti nostri fidelizzati nonostante tutto comunque vogliono acquistare nei negozi. Sicuramente il boom ci sarà perché già ora tutti stanno cominciando a vendere questo tipo di prodotto. Spero che ci siano più controlli perché devono essere premiati soprattutto noi che da anni facciamo questo. Non mi preoccupo perché siamo un negozio storico, siamo da 50 anni, la gente vuole il prodotto ufficiale e venne da me.